Lo scopo di questo incontro è sensibilizzare e far conoscere a tutti i vantaggi che propone la copertura in alluminio e grazie alla dita preffa siamo riusciti a organizzare questo evento presso la nostra sede. Grazie ad eventi di questo tipo nati dalla collaborazione con gli installatori locali anche un'azienda che lavora su scala europea come preffa può diffondere i vantaggi delle coperture d'alluminio e raggiungere e soddisfare le esigenze del grande studio fino a quella del cliente privato. Gli aspetti che mi hanno colpito più di questo evento sicuramente oltre all'innovazione l'uso di materiali comunque a basso impatto ambientale sicuramente una tecnologia che è relativamente semplice nel suo utilizzo e che comunque porta dei grandi vantaggi sia in termini estetici che prestazionali sicuramente da proporre e da valutare anche nel nostro territorio.